Si chiama Growing Up, il primo progetto web nato per offrire supporto alle famiglie di bambini affetti da disordini della crescita. Growing Up è stato realizzato con il contributo di esperti e si propone di portare un'informazione chiara, completa e aggiornata con consigli pratici per tutta la famiglia coinvolta. Growing Up è anche un progetto web disponibile all'indirizzo www.growingup.net barra it. Questo sito è nato dall'esigenza di creare una piattaforma online dove si potessero trovare contenuti affidabili, di facile comprensione e lettura, che potessero aiutare appunto le famiglie, una volta diagnosticato il deficit del GH, ad affrontare la diagnosi stessa, la terapia, la cura e quindi poter avere un conforto da questo tipo di iniziativa. Questi genitori e i bambini vedono il clinico come un punto di riferimento, si fidano del clinico, negli anni instaurano dei rapporti molto belli, però poi nella quotidianità spesso si sentono soli e quindi avere a disposizione, creare una rete anche tramite l'associazione pazienti o avere a disposizione un sito certificato dove ci siano delle informazioni utili per queste famiglie è sicuramente un obiettivo che ci si deve porre. Il sito inter diventa uno strumento preliminare da poi utilizzare per confrontarsi con la struttura sanitaria. La medicina narrativa è uno strumento altrettanto utile perché a volte nelle parole narrate di coloro che hanno attraversato delle esperienze di vita di un certo tipo ci troviamo rispecchiati e quindi rafforzati anche nelle nostre difficoltà. Molto importante il ruolo del pediatra, già del pediatra di famiglia che segue regolarmente il bambino e vede e può intercettare presto insieme anche ai genitori, spesso i genitori oggi sono molto attenti a questa problematica per una serie di fattori e quindi può intercettare precocemente questo ritardo, questa flessione della curva di crescita e quindi laddove è necessario fate tutti gli esami e fare appunto gli esami specifici per valutare come viene prodotto questo ormone. Grazie 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 Grazie